amici bentornati nel nostro diario serale e il nostro piccolo mondo dove siamo tra noi e possiamo essere grati della giornata che abbiamo passato e di tutte le cose belle che abbiamo nella nostra vita ecco settembre è appena appena trascorso e io lo vedo come un mese di nuovi inizi di nuove opportunità perché è anche un po particolare perché ricomincia tutto ricominciano le scuole gli studi ricomincia il lavoro e la nostra testa automaticamente si attiva per magari trovare dei nuovi progetti per l'anno vi dico questo perché perché io vedo settembre esattamente così come ve lo sto descrivendo per me non parte dal primo gennaio ma parte proprio da da settembre settembre mi dà un po perché cambia il tempo e voi sapete che io amo l'autunno settembre mi mi dà proprio questa sensazione di di nuovi inizi io ragazzi sono stata assente per tanto tempo per un mese e ho avuto da fare delle cose mie personali e non mi sono potuta come avete visto dedicare al canale adesso sono tornata e però in questo mese ovviamente tanto riflettuto no perché poi io sono una persona anche molto introspettiva forse anche troppo penso troppo e non so quanti di voi abbiano questo vizio va bene mettersi in discussione va bene anche farsi delle domande ed essere sì in qualche modo introspettivi ma a volte la nostra testa viaggia troppo pablo e viaggiando molto velocemente a volte non ci danni tranquillità né soluzioni adeguate al cambiamento che cerchiamo alla risoluzione di un problema che stiamo cercando perché perché non ci fermiamo mai ragazzi non ci fermiamo mai la la nostra testa la nostra mente non si ferma mai e io ho avuto tanto bisogno in questo periodo sia di fare le mie cose ma anche di fermarmi a riflettere e a pensare non solo al canale ovviamente ma anche alla mia vita in generale ne avevo bisogno avevo bisogno di fermare la testa che poi era occupata in altro però era impegnata anche a fare un po un reset di tutto l'anno che che avevo passato e che ho lasciato alle mie spalle in questo periodo ragazzi sento tante persone anche che insomma non conosco proprio diciamo benissimo ma anche persone che mi sono accanto che non stanno bene non stanno bene mentalmente ci siamo confrontate con queste persone e il problema è sempre lo stesso non mi sento adeguato non mi sento adeguata non sento che nella mia vita che la mia vita non sta andando nella direzione giusta sento che sono indietro rispetto alle persone della mia vita ragazzi ma vi sentite indietro rispetto a quali parametri rispetto a chi noi facciamo tanti confronti con gli altri e dedichiamo veramente poco tempo a pensare a cosa veramente desideriamo noi da questa vita a cosa cosa ci aspettiamo quali sono i nostri progetti i nostri sogni non lasciamo fluire le cose ma le combattiamo e questo ci crea una frustrazione incredibile anche un senso di colpa di inadeguatezza impariamo a fermarci e impariamo a non fare confronti con gli altri perché la nostra vita è unica così com'è noi stiamo vivendo il momento che dobbiamo vivere non possiamo vivere nel passato perché è passato e non possiamo vivere nel futuro perché è una cosa totalmente irreale il futuro ancora non esiste tutti i preconcetti tutti i pensieri che ci facciamo noi rispetto al futuro non sono reali possiamo fare dei programmi dei progetti quello sicuramente ma non possiamo crearci un problema che attualmente nell'oggi nell'ora non esiste ancora e spesso pensando al futuro si crea questa frustrazione questo dolore interno che però non ha nulla di reale anche io spesso lo sapete mi sono sentita insomma non proprio benissimo mi sono sentita comunque inadeguata mi sono sentita non adatta mi sono sentita inferiore poi però ritorno al punto di partenza e torno ad essere me stessa con tutti i miei difetti con le mie imperfezioni ma ricordando sempre che sono una persona unica ho avuto in dono la vita che il dono più prezioso il regalo più prezioso che ognuno di noi può ricevere e cerco di valorizzare al massimo tutto quello che ho e oggi voglio ringraziare questa vita e questa giornata che è appena passata perché oggi mi sono sentita veramente una persona molto fortunata non perché ho fatto chissà cosa ma perché mi sono guardata intorno a un certo punto della giornata e era precisamente l'ora di pranzo io stavo mangiando e voi direte che cosa stavi facendo di speciale ero seduta in casa mia a un tavolo e stavo mangiando un piatto caldo quella era la mia fortuna più grande ci sono persone che non hanno tutto questo che a noi sembra scontato vabbè che stavi facendo stavi mangiando tavolo il piatto di pasta pure in bianco quindi tristissima e invece era importante è importante riconoscere le piccole fortune che abbiamo noi nella vita mi sono sentita veramente la persona più fortunata del mondo una persona privilegiata perché guardandomi intorno ero in un ambiente protetto al caldo al sicuro e stavo mangiando non conta quello che stavo mangiando ma stavo mangiando avevo qualcosa da mangiare in quel momento un ambiente protetto intorno a me un ambiente sicuro e avevo appena sentito mio marito e che mi stava raccontando quello che era successo nella sua mattinata e era dato tutto bene un momento di estrema serenità impariamo ad apprezzare anche queste piccole cose che nella quotidianità e nella frenesia della giornata ci sfuggono sono degli attimi dei momenti molto veloci ma che noi non cogliamo perché andiamo sempre di corsa e invece questo diario serale deve farci rivivere la nostra giornata ripensare a che cosa abbiamo vissuto e cogliere quei piccoli momenti perché ce ne sono durante la giornata che ci hanno resi felici anche semplicemente sereni anche la telefonata che avete ricevuto dal vostro figlio che vi diceva mamma sono a casa ok va tutto bene adesso faccio merenda anche quella potrebbe essere una una fortuna e un momento tranquillo felice privilegiato della vostra giornata raccontatemi nei commenti qual è stato il momento più felice della vostra giornata più sereno io intendo felicità ma anche come come serenità come tranquillità raccontatemelo perché è anche per me un motivo di è uno stimolo perché anche a me durante la giornata sicuramente passeranno tanti momenti felici che non ricordo e magari posso prendere spunto per accorgermene la prossima volta da quello che che mi dite voi sono felice di essere tornata da voi dalla mia community che è anche la mia famiglia siamo diventati una veramente una famiglia mi sento molto mi sento molto fortunata per per avervi nella mia vita e come sempre ho selezionato per voi un piccolo passaggio di uno dei miei libri preferiti ragazzi è che vi sto leggendo ormai da agosto e si chiama io sono di legno ed è della dell'autrice giulia carcasi e mentre prometteva ricchezze splendeva anche lui io no non splendevo la fatica mi aveva insegnato a non credere ai soldi ai soldi che stanno negli occhi e nella bocca credevo ai soldi che si tengono in tasca che si nascondono sotto il materasso e ogni tanto vanno controllati per assicurarsi che ci siano ancora ma carlos sognava e chi ero io per negargli un sogno sarebbe stato lontano un anno cosa conta un anno nell'eternità di due persone destinate vai gli ho detto e in tre lettere c'era l'oceano ha usato i nostri risparmi per viaggiare su quella nave cargo è stato il carico più pesante che ho visto andare via vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera spero di avervi tenuto compagnia vi do appuntamento al prossimo video buonanotte